Qui si parla di esplosioni, non di emozioni Di posizioni e perversioni Di tentazioni dentro a situazioni Con proibizioni ed evasioni Cado nella volutà senza esitazione E tu perché non usi la mia tensione? Cadere in due sarà un piacere, un attimo più gente È solo chi non si abbandona che si pende Le situazioni La liberazione del mio corpo La liberazione dei sensi E la dipendenza da momenti intensi Mi hanno sempre voluto sempre Mi vorranno di più La liberazione dei sensi E la dipendenza da momenti intensi Mi hanno sempre voluto sempre Mi vorranno di più Protessi di vocazioni Poco religiose Di confessioni Maliziose Di propensioni Peccaminose Di relazioni vogliose Cado nella volutà senza esitazione E tu perché non segui la mia direzione? Cadere in due sarà un piacere, un attimo più gente È solo chi non si abbandona che si pende E l'eccitazione E l'eccitazione E l'eccitazione La vibrazione del mio corpo La liberazione dei sensi E la dipendenza da momenti intensi Mi hanno sempre voluto sempre Mi vorranno di più La liberazione dei sensi E la dipendenza da momenti intensi Mi hanno sempre voluto sempre Mi vorranno di più Necessitazione Quanto 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 La liberazione dei sensi e la dipendenza da momenti intensi Loro mi hanno sempre voluto sempre vivono a notti più La liberazione dei sensi e la dipendenza da momenti